Ciao a tutti, come potete vedere sono qui nel villaggio olimpico di Pyeongchang per le Olimpiadi 2018. Io sono Lorenzo Bilotti e sono un componente della nazionale italiana di Bob. Siamo qua per le gare di Bob A4 e volevo approfittare di questo momento e di questo video per ringraziare il dottor Iader Fabri per tutto il sostegno che mi ha dato in questi anni, gli aiuti, i consigli durante la stagione. Fate tesoro dei suoi consigli perché sono utili sia agli sportivi che alle persone normali sicuramente, per chi si rivolge a lui i cambiamenti si noteranno e i miglioramenti soprattutto. Per gli atleti soprattutto nelle prestazioni, nel riposo, nel mangiare bene ed essere per cui in questo modo prestativi. Lo ringrazio. Grazie. 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 Grazie.